Cure dentali di elevata professionalità e specializzazione, diffusione della cultura della prevenzione odontoiatrica presso tutte le fasce d'età, organizzazione e partecipazione a seminari e convegni rivolti ai professionisti del settore. Sono questi gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la Clinica Dentale De Pasquale di Mazzara del Vallo, il brand che dal 2017 racchiude sotto la sua insegna l'esperienza di oltre 80 anni di storia dello studio dentistico De Pasquale. Nell'ottica di una maggiore vicinanza alle esigenze dei pazienti, la struttura siciliana è impegnata costantemente in attività di sensibilizzazione sul tema della salute. Dopo l'ottimo riscontro delle precedenti iniziative, la Clinica Dentale De Pasquale ha lanciato la prima campagna di prevenzione del 2018, che prevede una visita specialistica di prevenzione gratuita per monitorare la salute dei denti e della bocca, agevolando per chi ne farà richiesta l'accesso alle cure. La prevenzione, come abbiamo detto, è fondamentale per evitare che alcuni problemi piccoli o inesistenti possano o svilupparsi o peggio ancora creare danni. Questa non deve essere vista come un aumento dei costi. Fare prevenzione non significa spendere di più solo perché io due volte all'anno mi recuo dal dentista magari per fare un igieno orale, una semplice generale, che se noi pensiamo di spendere x euro l'anno solo per controllarci potrebbe sembrare un aggravo dei costi. In realtà questo ci previene problemi che dopo dieci anni si manifestano essere molto più costosi, molto più gravosi perché la patologia non è più quella piccola patologia risolvibile con poche mosse, ma qualcosa di sicuramente più impegnativo e che porta ad avere una parcella del dentista purtroppo molto elevata. Noi come clinica abbiamo detto che vogliamo spingere e puntare molto sulla prevenzione, proprio per questo abbiamo l'intenzione di fare diverse campagne di prevenzione, molte le abbiamo già attuate nel 2007, ricordo quella sui bifosfonati e sull'ostoporosi, è stata una campagna di prevenzione molto importante che ci ha portato ad avere ottimi risultati, quindi queste campagne di prevenzione che stiamo cercando di attuare mirano a diffondere nella popolazione tutti quei concetti di prevenzione e perché no di primo soccorso che possono servire a una vita più tranquilla con minor problemi e perché no spendendo meno nel tempo. Per prenotare la propria visita di prevenzione gratuita è sufficiente compilare il form di contatto sul sito www.clinicadentaledepasquale.it oppure chiamare allo 0923 941103.